La brusca interruzione del blocco dei licenziamenti rischia di avere conseguenze disastrose sull'occupazione in Abruzzo, una regione dove ammortizzatori come la Cassa Integrazione e ancora di più l'Anaspi, cioè l'assegno di disoccupazione, parlano di un'evidente fragilità del sistema produttivo. L'allarme è lanciato dalla Will Abruzzo che interviene proprio sulla fine del blocco dei licenziamenti a partire dal 1 di luglio, così come individuata dal governo dopo forti tensioni fra ministri e forze di maggioranza. Solamente nel 2020, commenta Michele Lombardo, segretario Will Abruzzo, sono state 61.471.170 le ore di Cassa Integrazione autorizzate in Abruzzo, 16.143.359 nei primi quattro mesi del 2021, in aumento rispetto alle 16.86.103 dell'analogo periodo 2020. Cifre impressionanti che indicano quanto ancora massiccio sia il ricorso agli ammortizzatori sociali causa Covid. Ancor più impressionante il dato relativo alla Naspi in Abruzzo. Nel 2020 sono state 46.937 le ore liquidate, numero inferiore sicuramente al 2019, con i 51.135, ma pur sempre erogate in una fase in cui il blocco dei licenziamenti è attivo. In altre parole, dice la Will, stiamo parlando di persone che nonostante il blocco, il lavoro lo hanno già perso. Per questo il sindacato si dice preoccupato per le decisioni assunte dal governo. Riteniamo sbagliata la posizione di Confindustria, continua la Will. Per uscire dalla crisi, infatti, c'è bisogno di gradualità e servono strumenti che facciano da cuscinetto per un atterraggio morbido. Anche per questo, nel corso della manifestazione in programma il prossimo venerdì 28 di maggio a Pescara, sui temi della sicurezza sul lavoro, insieme a CGL e CISL, la Will chiederà al governo di ripensare la sua decisione e di non appiattirsi sulla posizione di Confindustria, che per il sindacato è totalmente inaccettabile.